Tutto è pronto per il fischio di inizio, tribuna gremita qui a Brancaleone, qui Carbone, palla battuta sul secondo palo, non ci arriva sulla palla Costantino, schierato sia l'attacco sia la difesa del Brancaleone. Parte Giglio, brevissima rincorsa, la palla viene rinviata, alla fine c'è fuori gioco, palla per Pristerà, pressing alti dal Brancaleone, recupera palla con Rubertà, attenzione, viene toccato Matteo Carbone in aria, rimane a terra, riesce a sgusciare, a superare Costantino, serve in profondità Carbone, entra dentro l'aria, posizione defilata, va al tiro e c'è il gol di Matteo Carbone. Al quindicesimo il Brancaleone passa in vantaggio, un gol di rara potenza sul palo coperto da rotella e sfonda la rete, non può nulla, un destro potentissimo di Matteo Carbone che porta in vantaggio il Brancaleone sul risultato di 1-0, Brancaleone 1-0 Sporting 0. Riesce Morabito ad anticipare Giglio, attenzione la palla può diventare pericolosa ma esce bene Rotella, attenzione, non controlla ed è stato fortunato stavolta il portiere dello Sporting. Trimboli mette al centro per Eira, palla corta, attenzione, non ci arriva Galletta, buona la palla per Virgara, attento un tiro difficile. Riparte da dietro lo Sporting, alto del Brancaleone, recupera palla, Trimboli, attenzione, Trimboli, Trimboli e para Rotella. Ecco il fischio, parte Galletta, va direttamente in porta e la palla supera di poco la traversa. Lunga palla di Angio, troppo cenziale, profonda, alla fine comunque al limite dell'aria recupera Rubertà, dribbling a rientrare, prova il cross. Attenzione, c'è un colpo di mano ma è fuori dall'aria e probabilmente parte Carbone di destro e cerca di sorprendere sul primo palo Rotella. Non riesce, attenzione, va Morabito, per poco non ci arriva Simone Galletta. Sul secondo palo è sempre collocato Angio, di testa Galletta e la palla è di poco alta sulla traversa. Veloce Bellia al centro Giglio, temporeggia Bellia, va al tiro, palla deviata, vediamo se la Cana riesce a evitare il calcio d'angolo. Lo evita, però la palla arriva a Carbone, siamo quasi al limite dell'aria, si accentra Carbone, cerca il tocco morbido per Giovanni Galletta ma è troppo lunga. Finta Costantino, questo è uno schema per liberare al tiro Bellia. Non look tentato da Rubertà per Virgara che riesce ad anticipare, Ienco entra dentro l'aria, mette al centro, palla troppo lunga, arriva adesso Rubertà. Limite dentro l'aria, mette di nuovo la palla sul secondo palo, ancora Virgara che riesce a tenere la palla in campo, ancora Rubertà. Ecco Rubertà che va al tiro, attenzione! E la palla finisce fuori, aveva toccato la traversa. Non abbiamo visto quanto abbia indicato di recupero il signor Eboli ma siamo al 46esimo. Evidentemente era uno il minuto di recupero assegnato dal signor Eboli e finisce la prima frazione di gioco sul risultato di 1-0 per il Brancaleone. Siamo quindi collegati grazie alla collaborazione tra Stadio Radio, la pagina ufficiale Facebook del Brancaleone, APD Brancaleone 1969 e la pagina ufficiale dello Sporting Catanzaro Lido, sempre Facebook, dove potete seguire in diretta streaming questo incontro. Si è partiti con la seconda frazione di gioco, al momento non ci sono stati cambi né dall'una né dall'altra parte. Questa volta è direttamente in aria, la palla in aria anche Carbone e Giovanni Galletta, palla lunga e per poco! Ancora rimessa laterale, ancora Morabito per Carbone che cerca di tacco, poi di testa a Trimboli, Trimboli supera, pristerà, entra in aria, Valcross però recupera, pristerà e impatta sulla palla. Bellocci riesce a rinviare la palla in campo, Rubertà elegantemente scarica su Simone Galletta che è di esterno, serve l'inserimento di Trimboli, controllo di Trimboli e alla fine la palla finisce fuori con deviazione di Rotella. Siamo sul fondo, Val, bellissimo cross che attraversa tutta l'aria ma non c'è nessuno a deviarlo, recupera la palla Rubertà, Rubertà dentro l'aria, serie di dribbling, entra, salta un uomo e va al tiro cross. Trimboli salta un uomo, riesce a servire Rubertà, limite dell'aria, entra in aria Rubertà, palla per Giovanni Galletta che realizza il gol del 2 a 0. Stavolta è stato tutto molto semplice, Rubertà ha saltato un uomo, Giovanni Galletta lo aspettava al limite dell'aria piccola e di piattone destro ha messo imparabile per Rotella. Quando siamo nel corso del diciassettesimo della ripresa il Brancaleone si porta sul 2 a 0 grazie al gol di Giovanni Galletta. Stadio Radio ringrazia anche la fattiva collaborazione delle due società per permettere questa diretta streaming live del big match di promozione Girone B tra Brancaleone e Sporting Catanzaro. Batte Simone Galletta verso la porta, Angio e viene recuperata da Trimboli. Carbone con una finta, supera Ienco. Adesso c'è davanti a lui Anziera Fabio, entra in aria, entra in aria, Carbone e viene atterrato. Il signor Reboli dice che non c'è fallo. Pronto alla battuta, batte Rubertà, palla lunga sul secondo palo. C'è fallo. C'è un angolo corto praticamente, lo batte Simone Galletta, forte, la palla è su. Angio che realizza il 3 a 0, Angio realizza il 3 a 0. Brancaleone 3, Sporting 0. Il Brancaleone realizza il gol del 3 a 0. Batti e ribatti, palla su Giglio, gran traffico. Costantino prova il tiro, rimpallato, mette fuori Trimboli. Con calma Bristerà anticipato. Fulciniti da Morabito. Fulciniti va al cross, ma Laganà esce bene. Si fa vedere Fulciniti, tenta il lancio. Ienco e la palla arriva. Attenzione, rigore per lo Sporting. Tutto è pronto, fischio del signor Reboli. Parte Giglio e realizza in maniera fredda centralmente e si porta lo Sporting sul 3 a 1. Pressing, palla toccata di testa al nuovo entrato Pugliano per Giglio. Attenzione, Giglio, limite dell'aria, si libera di un giocatore, deve dietreggiare. Entra nuovamente in aria. Sulla palla Fabio che tocca per Rotella. In questo momento il signor Eboli di Paola sancisce la fine della gara. Il Brancaleone supera per 3 a 1 nel big match di giornata lo Sporting Catanzaro. con tre reti realizzate al quindicesimo da Carbone e poi della ripresa al sedicesimo da Galletta Giovanni e al ventiseiesimo da Antjo. Accorce le distanze al trentanovesimo su calcio di rigore Giglio.